Valfaris, no non è il nuovo attaccante della Juve, tranquilli, è un nuovo titolo, un nuovo videogioco uscito per Nintendo Switch in questi giorni e uscirà prossimamente per Steam, PS4 e Xbox One Valfaris riconferna la predisposizione di Andrew Gilmour ai platform con un gioco che pescando a piene maniche dal calderone The Run and Gun Simil Contra diventa un titolo da consigliare a tutti gli amanti del genere Vario, impegnativo, brutale nell'aspetto e nel gameplay, con una colonna sonora da urlo Valfaris è un headliner dal forte tratto distintivo che stringe nel pugno una manciata di buone idee pur restanto fedele ai classici a cui si ispira Valfaris compie quindi un'ottima prova che su Nintendo Switch dà il meglio di sé in modalità portatile dove la grafica diventa fantastica forse abbiamo finalmente recuperato anche quest'altro genere perso nei meandri del medioevo videoludico finalmente i Contra Like sono tornati tra noi finalmente questo genere fa un passo avanti diventato finalmente più immediato, più bello esteticamente, più profondo dimenticavo, a differenza di Contra qui abbiamo sia una spada che uno scudo per parare i colpi oltre al fucile e la morte one shot come da genere questo Valfaris manda in pensione titoli come Blazing Chrome, Super Cyborg e similari che, diciamocela sono ottimi titoli ma sono sovrastati ancora dalla qualità del capostipite Contra anzi, sembrano dei semplici cloni mentre Valfaris si discosta da Contra sprizzando personalità da tutti i pori quindi in breve, è un titolo con una pixel art realizzata da Dio con un colpo d'occhio da paura è un buon esponente dei run and gun se non uno dei migliori attualmente in circolazione gli amanti del heavy metal lo ameranno alla follia a una colonna sonora da urlo cioè non saprai se sparare o scapucciare l'unico lato negativo è che mancano degli extra non c'è una vera possibilità di rigiocarlo se non per fare le speed run come si fa con Contra però spero che questo gioco abbia successo e verranno aggiunte nuovi livelli e modalità come è avvenuto con On Low Night quindi, in sintesi se siete appassionati del genere chiudete questo cazzo di video e correte subito a comprarlo in questo istante veloce!